Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme una procedura in realtà abbastanza banale e semplice che è quella dell'installazione di una proprietà GA4 che in questa fase è banale perché io presuppongo semplicemente di volerla installare senza valutare con se modo altre migliaia di cose. Quindi hai un sito su cui magari hai già installato Universal Analytics e vuoi installare la nuova versione di Google Analytics ovvero GA4 e quindi vediamo insieme come fare. Questa stessa procedura può essere fatta non solo tramite Google Tag Manager ma potresti ad esempio installare manualmente il codice di GA4 sul tuo sito o in alternativa volendo potresti utilizzare un plugin o un modulo già presente che ti abilita già a GA4. Come scegliere se installare Google Analytics 4 tramite GTM o tramite un plugin o un modulo, lì dipende dalla tua situazione. Il mio consiglio è quello di effettuare l'installazione tramite Google Tag Manager in modo tale da avere e poter disporre effettivamente di un sistema di gestione dei tag che a prescindere è una cosa molto comoda. Oggi vediamo proprio come effettuare questa installazione e come vedrai si tratta giusto di un paio di click per poterle effettivamente fare e un altro paio di click per poter poi verificare che l'installazione funzioni corretta. Deppo, cominciamo. Ok, io ho qui già una proprietà Google Analytics 4 e un container di GTM con alcuni tag presenti ma supponiamo che voi abbiate già il vostro container di Google Tag Manager installato e abbiate già creato la vostra proprietà di Google Analytics. La prima cosa che dovrete recuperare è lo stream di dati perché per come funziona GA4 GA4 non ha un sistema di viste eccetera ma funziona un sistema di suddivisione della tua proprietà in stream di dati quindi materialmente in cose che possono inviarvi dei dati per farla abbastanza semplice. Tendenzialmente tu avrai uno o più stream però già un po' più raro di tipo web per il tuo sito ed eventualmente se il tuo sito è una web app che quindi ha agganciato un'app iOS a Android avrai anche altri due stream che sono quelli dell'app Android e quello dell'app iOS e riuscirai a fare dati in forma aggregata. In questo caso supponiamo che tu voglia effettivamente installare il tuo stream di dati di tipo web in questo caso io voglio installare lo stream del mio sito. Cliccando sullo stream Google Analytics ci dà una serie di informazioni come il nome, l'url, l'id e l'id di misurazione. L'id di misurazione è quello che ci servirà effettivamente per andare a installare e a configurare il nostro tag all'interno di GTM. Possiamo volendo decidere anche di installare direttamente lo stream di dati tramite codice quindi andare effettivamente a fare l'installazione in maniera manuale però come ti dicevo io ti consiglio di passare comunque da Google Tag Manager se possibile. Una volta copiato l'id di misurazione, quindi facendo clic sul pulsante copia dobbiamo andare su Google Tag Manager. Io qui do per assodato che tu sappia un minimo utilizzare Google Tag Manager sappia cos'è un tag, un attivatore o una variabile però eventualmente ci faremo un video sopra in caso non scrivimelo qui nei commenti che ci facciamo un video sopra sulla cosa. In particolare per GA4 Google Tag Manager dispone di due tag differenti che sono uno il tag di configurazione che è quello che ora utilizzeremo per andare effettivamente a configurare il nostro stream di dati tramite GTM e poi dispone in realtà anche di un secondo tag che è un tag evento che utilizzeremo e che dovrai utilizzare per inoltrare degli eventi. Quindi nel caso in cui tu voglia tracciare degli eventi particolari dovrai utilizzare il tag evento di GA4. Per ora, dato che vogliamo semplicemente installare GA4 sul nostro sito tramite Google Tag Manager dovremo effettivamente andare ad utilizzare il tag di configurazione di GA4 e tra le informazioni che ci richiederà c'è proprio l'id di misurazione. Quindi dobbiamo inserire l'id di misurazione. Dopodiché ci chiede due informazioni aggiuntive cioè ci chiede se vogliamo inviare un evento di page view quando il tag di configurazione viene attivato e questa è un'opzione che io in genere lascio attiva nel 90% delle configurazioni che ho fatto non avuto la necessità di non dover far spuntare un evento di page view tranne in quelle situazioni in cui uso il tag di configurazione per andare a impostare magari dei campi e non mi interessa che in quell'occasione venga attivato un evento di page view. Mi interessa semplicemente che alcuni campi vengono impostati sull'account, ad esempio lo user ID. Poi abbiamo l'opzione per inviare i dati del nostro tag di configurazione a un server quindi nel caso in cui stiamo facendo un tracciamento server side abbiamo già nel tag di configurazione la possibilità di inviare proprietà utente e alcuni, cioè se vogliamo possiamo inviare alcuni proprietà utente oppure alcuni campi da impostare come lo user ID. Le impostazioni poi sono quelle di tutti i tag in gtm quindi non c'è molto da fare. L'unica cosa che dobbiamo fare è inserire l'ID di misurazione qui definire delle regole di attivazione per questo stream e successivamente inoltrare il container. Ora io l'ho già fatto in realtà ho già effettuato la procedura di installazione però capiamo se siete arrivati fin qui quindi avete inserito l'ID di misurazione settate eventuali campi e proprietà avete salvato volete verificare se effettivamente il tag sta funzionando quindi se GA4 effettivamente da ora che inoltrerete il container comincerà a ricevere dati. Per farlo comincerei facendo due cose la prima andiamo in anteprima quindi mandiamo in anteprima il container e verifichiamo se effettivamente il tag viene attivato quindi effettivamente si attiva il nostro tag di configurazione di GA4 qui vediamo che tag assistant mi dice che è attivo se vado qui mi dice ok effettivamente si è attivato il tuo tag contenente l'ID di misurazione e tutto il resto. L'altra cosa che possiamo verificare invece è utilizzare la debug view di GA4 per andare a vedere effettivamente se il nostro tag è stato attivato e se è stato attivato dovremmo vedere intanto un evento di page view e poi tutti quegli eventi che vengono attivati in maniera automatica dalla semplice installazione del tag e in più io qui ho attivato pure alcuni eventi di misurazione avanzata che dovrebbero essere monitorati automaticamente. La debug view in GA4 si trova nel pannello di configura debug view è un'interfaccia super interessante perché ci dà proprio la possibilità di verificare tutti questi dati in particolare in questo momento ci dice effettivamente che è arrivato un evento di page view sulla pagina quindi effettivamente l'evento è arrivato. Come attivare la modalità di debug perché non viene attivato automaticamente avete tre modi principalmente o utilizzate mandate in anteprima il container di gtm e questo automaticamente vi abilita la debug view oppure impostate il campo debug all'interno di GA4 oppure utilizzate un'estensione di chrome che si chiama analytics debugger e attivate quella. Come vedete in questo caso essendo che io vedo che il mio container sta cominciando a ricevere degli eventi è tutto ok funziona correttamente possiamo stare tranquilli l'installazione è andata a buon fine. In un video successivamente parleremo anche del concetto di debug view eccetera ce li ho tutti in programma per ora il succo era farvi vedere come si installa effettivamente un container cioè come si installa una proprietà GA4 uno stream di dati di GA4 tramite gtm sul vostro sito e come avete visto è abbastanza semplice farlo. Ok siamo arrivati alla fine come avete visto ecco come accennavo all'inizio è semplice installare in realtà una proprietà GA4 tramite Google Tag Manager quindi non richiede chissà quali elaborazioni come bonus abbiamo visto anche come verificare effettivamente che una proprietà risulti installata in maniera corretta perché questo è importante naturalmente nel fare alcune operazioni ho dato molte cose per scontato quindi ho dato per scontato che tu conoscessi cioè chi sta guardando conoscesse cos'è un container di gtm cos'è il gtm come funziona il sistema di tag attivatori o variabili all'interno di Google Tag Manager e così via però immagino che se stessi cercando come installare Google Analytics 4 tramite Google Tag Manager già avessi dimesticato con queste cose in ogni caso sono tutti argomenti che tratteremo in futuri video quindi iscriviti pure se non vuoi perderteli o seguimi sui canali che trovi in giro per rimanere più o meno aggiornato grazie mille